fare il miracolo, vediamo Bonfiglio sistema la palla, Giacobbe è fuori perciò possiamo infilzare, manca il pilastro centrale del Rocca, attenzione, vediamo è tutto pronto, si aspetta soltanto il fisco dell'arbitro, vediamo come si chiama, non mi viene per ora, Bonfiglio, 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 Bonfiglio! GOOOOOO 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 BAMILLA Voi me pegaranno BAMILLA Non ho detto me pegaranno GOOOOOO GOOOOOO